Singolari coincidenze nel governo gialloverde, i cui vicepremier hanno deciso di ufficializzare le loro nuove storie d'amore a pochi giorni l'uno dall'altro Punto dopo Luigi Di Men, che con la fidanzata Virginia Saba, chi è, è andato al teatro dell'Opera di Roma, foto, anche Matteo Salvini ha fatto la sua prima uscita pubblica con la nuova compagna Francesca Verdini Punto la coppia è comparsa alla prima di Dumbo, il nuovo film di Tim Burton Salvini e Francesca Verdini, 26enne figlia dell'ex parlamentare di Forza Italia Denis Verdini, sono arrivati insieme al The Space Cinema moderno di Roma Vestita di nero lei, in camicia e completo lui, sono comparsi tenendosi per mano mentre, nell'altra, il classico sacchetto di popcorn Le indiscrezioni su Salvini e Francesca Verdini avevano iniziato a girare quasi dieci giorni fa, quando D'Agospia ha raccontato di una cena del vicepremier con la 26enne al ristorante Pia Station, a Campomarzio, di proprietà di Tommaso Verdini, anche lui figlio dell'ex senatore del gruppo ALA Punto poi qualcuno aveva notato che tra lo stream in sito numero di persone che il segretario della Lega segue su Instagram, circa una cinquantina, c'era anche Francesca Verdini Infine Salvini, da Cernobbio, parlando del vertice europeo in programma il 4 aprile aveva detto, magari andiamo in due Infine Salvini, da Cernobbio, parlando del vertice europeo in programma il 4 aprile aveva detto, magari andiamo in due